Secondo me il problema è più decidere da che parte stare e diventa un problema ancora più grande nel momento in cui uno scopre che le istituzioni stesse sono compromesse con la criminalità organizzata. E' lì, è proprio lì che diventa ancora più difficile scegliere da che parte stare. Un po' di qua e un po' di là. Per lei è facile stare dalla parte giusta. Mica ci vive Ettore Annunziata. Sì, forse hai ragione, è vero, sì. Sì, per me è un po' più facile. Lei ha scritto che la camorra è entrata nelle attività legali e che i politici danno una mano. Cioè, quindi è tutto marcio. Diciamo un bel po', eh? Ma allora non ci sono speranze. La speranza siete voi. Non ha paura a scrivere certe cose? Ogni tanto sì. E allora perché lo fa? Perché è il mio lavoro. Perché l'ho scelto. E non è che mi senta particolarmente coraggioso nel farlo bene. è che la criminalità, la corruzione, non si combattono soltanto che i carabinieri. Le persone per scegliere devono sapere, devono conoscere i fatti. E allora quello che un giornalista, giornalista, dovrebbe fare è questo, informare. Grazie. 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 Grazie.